La nuova competizione musicale della RAI Le prime serate saranno trasmesse in diretta da RAI 1 dal Teatro Ariston di Sanremo, in un da tutti i venerdì in prima serata dal 16 febbraio al 16 marzo 2018, salvo imprevisti ed improrogabili esigenze di Palinsesto. Il casting competizione sarà formato da 12 giovani cantanti, scelti attraverso tre passaggi, l'invio della domanda di partecipazione, selezione online da una commissione artistica, e infine le audizioni dal vivo. Potranno partecipare tutti i giovani nati a partire dall'1 gennaio 2000 e che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano compiuto i 14 anni di età. Il cantante può partecipare proponendosi sia come candidato singolo oppure insieme alla sua band, ovviamente i suoi componenti devono aver compiuto tutti i 14 anni come spiegato. I cantanti si metteranno alla prova, e dovranno superare diverse competizioni, le loro esibizioni verteranno su canzoni edite, famose, prevalentemente in lingua italiana. Sanremo Ion, tutte le informazioni necessarie per partecipare, il nuovo format della RAI Sanremo Ion, dato avvio alla presentazione della domanda di partecipazione online, è possibile infatti candidarsi da l'1 al 31 dicembre 2017. Siccome i partecipanti sono minorendi è necessaria la delibera firmata da entrambi i genitori. I giovani cantanti saranno esaminati da una commissione artistica, composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, da Antonella Clerici e dal direttore musicale di Eco Basso. Avranno un valore determinante anche i profili social dei candidati, i quali potranno pubblicare la loro esibizione sul web, la commissione artistica valuterà tutte le domande di partecipazione ricevute, selezionando i migliori, i quali sosterranno successivamente un'audizione dal vivo. Sanremo Ion, eliminazioni e votazione, la commissione artistica sarà determinante per tutto il percorso dei giovani cantanti, Sanremo Ion partirà da un totale di 12 ragazzi, ogni sera durante la competizione verranno eliminati due cantanti con un meccanismo di votazione. Sono previsti due sistemi di votazione, il televoto e il voto di una giuria del teatro Aristone, nell'ultima puntata, prevista per il 16 marzo 2017, si sfideranno i quattro ragazzi giunti in finale e tra di loro ci sarà il vincitore. Grazie a tutti.